Buonasera! Ebbene sì, avete sentito bene, ho detto buonasera e non buongiorno come al mio solito perché è proprio tardo pomeriggio Ed infatti ragazzi mi sono accorta che ho sempre fatto un sacco di morning routine, ma mai una night routine, cioè come è possibile? Quindi quest'oggi vi beccherete il retroscena della vita di Sony, cioè nel quanto si speggono le telecamere Non so cosa ve ne può fregare, però in realtà qualcuno me l'ha chiesto, quindi forse qualcuno interessa Quindi iniziamo la mia night routine con i miei 250.000 gatti, tipo Fufi che sta sonnecchiando qui Fufino, stai bello comodo qua sul trono della mia copertina morbida? Lo sto disturbando, dice questa fa video tutto il giorno, ora anche la sera, poveretto Comunque sia, dopo una giornata di lavoro che ho editato, girato video, la prima cosa che mi piace fare è mettermi comoda E quindi cambiarmi e mettere qualcosa che non uso per uscire Anche perché vi faccio vedere che fine fanno i miei maglioni quando non li tolgo Vengono distrutti da Fufi che decide di usarli tipo tiragraffi E quindi ormai ho imparato a cambiarmi prima che mi distruggano tutti i vestiti che ho per uscire Andiamo a prendere il pigiama Ok, ahimè però, prima c'è una cosa più urgente da fare Ovvero stendere i vestiti Anche a noi youtubers tocca sbrigare le faccende di casa Non abbiamo nessun maggiordomo, nessun ambrogio che disti i vestiti per noi Spegniamo la lavatrice che puntualmente dimentico accesa col bucato finito Che poi dovrò rilavare Sì perché ragazzi vi svelo un segretuccio per il vostro futuro che dovrete tenere bene a mente Se dimenticate i vestiti nella lavatrice per tanto tempo puzzeranno tipo di cane bagnato Ecco perché vi consiglio di non dimenticarlo mai Ebbene sì, adesso vi servirete in diretta a Sonia che stende le sue mutande E iniziamo da un bel modello mutandoni della nonna Però sono tanto comodi che imbarazzo Vestiti stesi e puliti, adesso tocca a me darmi una bella sgrassetina Rigorosamente accompagnata da un mio gatto La piccola Milky che ci tiene compagnia Amore mio, bella cucciola Ragazzi avere gatti può essere inquietantissimo perché ti spiano ad ogni tua mossa Se stai entrando in bagno loro sono lì che ti spiano Se stai cucinando loro sono lì che ti guardano Se stai andando a letto c'è un fufi stalker messo così Quindi avere gatti è veramente divertente Adesso scegliamo qualche bomba da bagno Io ho tutte queste qui che mi ha regalato Alessia Quindi adesso entro in doccia e metto questa Che è appunto una bomba da bagno da doccia Perché sì, sono sfigata Non ce l'ho una vasca da bagno con mille bolle Posizioniamo la bubble Che bubble non è più che altro una scialta Apriamo l'acqua e la vediamo frizzare Ha un odore incredibile Ebbene sì, sotto la doccia accanto Ma adesso continuo il mio concerto privatamente Possibilmente senza spettatori Perché sono stonata e ignuda E come potete vedere Milky non si è smossa minimamente da dove l'avamo lasciata Milky che fai? Le piace leccarmi i piedi bagnati Ovviamente in genere arrivata a questo punto della serata Mi strucco Ma visto che sto girando video Non voglio restare cioffa E quindi lo farò alla fine E intanto io vado a mettere il pigiama Ed è uno Ed è due Voilà Pigiamata Ragazzi io adoro il pigiama Per me è tipo uno stile di vita Mi fa sentire così comoda Confortata Niente, pigiama forever Diamoci anche una spruzzatina di deodorante Così giusto per non puzzare Ma dove me lo sono spruzzato In genere adoro anche ricoprirmi di una tonnellata di borotalco Perché mi sa proprio d'inverno profumoso Soltanto che appunto perché mi abuso l'ho finito Quindi oggi niente nuboletta Adesso si cucina O meglio dire si scongela qualcosa dal freezer Perché ragazzi mi piacerebbe un sacco avere l'avena della casalinga E cucinare tante cose buone Ma non ce la posso fare Quindi prediligo cibi surgelati Tristezza Che in genere fra l'altro Per recuperare tempo Metto in forno Mentre faccio la doccia E puntualmente Se ne va la luce Perché il motore dell'acqua Col forno Non vanno tanto d'accordo E quindi ogni volta Resto al buio Dentro la doccia Mi tocca asciugarmi Scendere E alzare il contatore Stasera mangio Cernia padata Con un filo d'olio E un'insalata Ops Me ne è caduto un po' troppo Con i miei gatti Che ovviamente vengono a delimosinare cibo Sì c'è anche per voi Però prima di preparare la pappa I miei tre diavoletti Che salgono sul tavolo Non dovete Cioè almeno fungete che non lo fate Oh fi Lascia il divano Non si fa Ma vi pare che io possa avere a che fare con questi qui Vabbè dicevo Metto un timer Altrimenti tipo Va a fuoco Non solo il cibo Ma anche la casa Perché me lo scordo Quindi Alexa Imposto un timer di venti minuti Venti minuti? A partire da ora Brava bimba E andiamo a preparare la pappa Per le mie pesti Quando metto il cibo ai miei gatti Devo necessariamente tenere la porta chiusa Altrimenti Pupi mi tortura Perché sale qui sopra E vuole mangiare subito Ecco qua Oggi gli aspetta un po' di salmoncino Anche se in realtà ho notato Che i miei gatti preferiscono La carne al pesce Non so se anche i vostri sono così O se sono solo i miei anomali E ora buttiamo su un piatto Questa roba Che puzza E appesta tutta la casa Ma a loro piace molto Quindi via Ecco qua E la pappa è servita Guardate come entra Alla velocità della luce Vai Pupi Dov'è la pappa? Dov'è? Ma quanto sei ruffiano tu Quando c'è del cibo di mezzo Ecco anche Udrina E Milchina Mettiamo la prima pappa Che mangerà sicuramente Pupi Che devo chiudere in cucina Altrimenti non fa mangiare gli altri gatti E questa qui è per Milchina Milchina vieni 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 Udrina anche tu Vi se la giudica prima Ecco in genere Udrina è la più paziente Tranquilla Udrina C'è anche per te Vieni qui Dai Mangia Upla Ma che bravi E adesso mi allontano Perché Udrina Se sente il minimo rumore Non mangia più È super fifona Fufi Ma perché ti strafoghi E fai cadere tutto? Non si fa così Ma che figure mi fa fare? Io sono accorta Che ho tipo Dei finocchi Dal pre-colombiano Quindi mi sa Che farò Un'insalata di finocchi Ecco la storia di sempre Io taglio qui E Fufi si lamenta Perché ha finito il suo E vuole andare a mangiare Quello degli altri Fai a mangiare gli altri in pace Tu hai mangiato Si metti Lamentoso Gatto lamentoso Fufi lamentoso Ingordo Ma che hai Che ti lamenti? Bene Inizia il momento Della serata In cui io parlo Con i miei gatti Fufi dai Basta Vieni a salutare Tutti i nostri amici da casa Che ti vogliono bene Ma che bel gattino Sucevole E la mia cena è pronta In genere mangio sul tavolo Cioè seduta nella sedia Come le persone normali Nel tavolo Ma visto che sono sola Sul letta E mi va di guardare la tv Mi metterò sul divano Ed ecco qua Ho riapparecchiato Per fare una bella cena Allume di candela Con me stessa E i miei gatti dai Adoro questa candela È una Yaki Candle Al profumo invernale Quindi con della cannella Non lo so Mi ricordo un sacco il Natale E quindi niente La metto qua Perché profuma tutto la niente E mi piace Coccolarmi Adesso Accendiamo la tv Al momento Senza troppo impegno Sto vedendo Un passo adelante Che è una vecchia serie Che facevano Quando io andavo al liceo E mi rilassavo Un sacco Guardarla Prima di fare i compiti Quindi era tipo Il mio momento Il relax E adesso Lo è diventato Mentre mangio E intanto Drina ci fa vedere Il suo sederone Lei è proprio Un gatto da salotto Sta sempre sul divano E niente Adesso assaggiamo Questo pesciolino E vediamo com'è Buonissimo Certo Non per merito mio Che l'ho solo scongelato Però molto buono Ho finito di cenare E adesso Ascolto il rumore Della pioggia Ragazzi Sta piovendo Che bello Le serate pigre A casa Con il calduccio I gattuzzi Odri Vieni qua Dai vieni qua Ucciolina bella Vieni qua da me Vieni qua gattina Lo so bene Dove sta facendo A fare brutta figura In genere Rispondo un po' Ai vostri messaggi Guardate quante bustine Ce ne sono un sacco Sei stupenda Ma devi trattare Fufi Come tratti Gli altri due amici No vabbè ragazzi Ma io amo Fufi Il nostro è un roccato Porto così litigioso Ma perché lui Folle Però stiamo tutto il tempo Abbracciati Ci facciamo un sacco di coccole Sei gelosa Se Alessia Ha il fidanzato E tu no Ma che domanda è Non posso essere mai gelosa Del fidanzato altrui Cioè nel senso Sì mi dispiace per me Che non ho un fidanzato Però non sono invidiosa Di Alessia State tranquilli Comunque adesso Vi rispondo su Instagram Quindi mi raccomando Se non lo fate Seguitemi E cambiamo stanza Perché Mi voglio mettere Bella comoda Mi seggo sulla mia bellissima Altalena Con le lucine accese Anche se Devo dire Non mi ci seggo troppo Perché è un po' scomoda Per la verità Infatti non si può Dondolare più di tanto Perché c'è il muro Sono stata molto furba A metterla qua Adesso mi rilasso Adesso mi rilasso un po' A letto con i miei gattuzzi Ciao Spuchino Ciao Spuchino Ma come stiamo Da quanto tempo Non ti vedevano in giro Ma come sapete Io non lo voglio svegliare Quando dorme E quindi Ce lo becchiamo Solo quando sveglio La sera Perché è un animaletto Notturno Che caruccio Magari alcuni di voi Neanche sapevano Che ce l'avessi Tipo Da dove spunta Questo topo Non è un topo È un riccio Un riccio africano Per vedere che sei bello Sei meraviglioso Cucciolo di mamma Bellissima Con questo musetto Milky ogni volta Che c'è Spuchy È super interessata Secondo voi Quanto è quotato Che Spuchy Mi faccia la pupù Di sopra Cioè è il suo Passatempo preferito Vero amore mio Vero No non mi dare morsi Sai L'ultima volta Mi è andato un morsi Assurdo Mi ha fatto malissimo Dove te ne vai Ma dove te ne vai tu Me lo spieghi Ulotto di Spuchy Sì Fa parte Tutto ciò Della mia night routine La passeggiatina Serale di Spuchy Noi ce ne stiamo così Ci diamo I bacetti Ci facciamo Le carezzine Lui si infila Nel mio collo Mi fa il solletico Mi morde E mi fa la pipì Di sopra Fa tutto parte Della nostra routine Però gentilmente Non mi farei la pipì Nel cuscino Le prego No l'ho appena fatto No Che schifo Guardate Mi tocca cambiare Le lenzuola Subito Torniamo Nella tua stanza Beh mi sta Così imparo A mettermelo A letto Cambiano Queste Lenzuola Forza Lenzuola Cambiate Finalmente Mi posso rilassare Con una cosa Bellissima Che vi faccio Vedere subito Ragazzi Tadam Guardate Che bella È una lampada Astronauta Che proietta Le stelle In cielo Con tanto Di telecomando Accendiamo Voila Ragazzi Guardate È appena Sbarcato Sulla luna Qui c'è Un laser Che proietta Appunto Le stelle Mentre questa lucina Che cambia colori Proietta Le galassie Wow Ma prima di farvi vedere Com'è l'effetto Con le luci spente Ve ne voglio fare Vedere un altro Ebbene Sì Mi hanno regalato Un'altra ancora E per quel che ho capito Questo qui dovrebbe avere Un'illuminazione Molto più forte Ma apriamocelo insieme Guardate quante belle e fancy Questa scatola Sì Con una mano è un po' complesso Quindi vada di piedi Spacchettamenti trash Ne abbiamo Ok Togliamo qui Questo qui è il manuale Di istruzioni Ed eccolo qua Il nostro proiettore Di stelle Apriamo Atmosphere Anka Life Anche Milky è super incuriosita Quindi proviamolo subito È installato nella sua nuova posizione Si collega attraverso Un cavetto USB Che si attacca appunto Ad un caricatore normale E adesso Lo accendiamo Qui c'è un pulsante E via Quanta luce ragazzi Ma è fantastico Ok basta Sto creando troppa suspense Adesso ce li vediamo Con la luce spenta 3, 2, 1 Et voilà Wow ragazzi Ditemi se non è stupenda Camera mia Con tutte queste luci Ma che atmosfera rilassante c'è Adoro ragazzi È quello nuovo Che abbiamo installato Che è potentissimo Adesso però Direi di andare A sparaflashare Un'altra galassia lì Ok Giriamo un po' La testolina Guarda da quel lato Wow ragazzi Ditemi Se non è stupendo Ovviamente Se volete provare La magia Delle stelle In casa vostra Vi lascio il link In descrizione Nel primo commento Così lo potete acquistare Da avere anche voi Cioè Ditemi se non è fantastico Cambia colore Mille galassie Pianeti Stelle Tutto ciò Si muove pure Wow Alexa Metti musica Jazz Spero che la mia Night routine Vi sia piaciuta Soprattutto Con questa atmosfera Così Io adesso Smetto di fare video Perché mi voglio Proprio rilassare E godere Questo bel cielo Stellato Da me E tutti i miei gatti Vi auguriamo Una buona notte Vero Fufino Ciao Dal mio cielo Con mille galassie Allora Ciao 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 Ciao